Non si sa con precisione quanti anni abbia, chi lo ha costruito e poi portata al santuario come ex voto. Quello che è certo è che il modellino di Brigantino Apalo, conservato nella Chiesa delle Grazie, ha ritrovato l'antico smalto dopo un lungo lavoro di restauro. A portarlo avanti è stato Luigi Ricciardi, insegnante e appassionato modellista, che ha capito il valore del manufatto e ha deciso di metterci mano. Questo vegliero è un pezzo importante di storia, qui per la nostra chiesa e anche per tutto il quartiere degli Scogli. È una testimonianza di storia e di fede. Il vegliero appartiene alla tipologia di navi che erano costruiti nei cantieri del quartiere Scogli a fine Ottocento. A ritrovare il modellino al santuario era stato Roncogorno, che aveva chiamato Ricciardi per provare a sistemarlo. Oltre ai vari danni la nave era completamente disalberata e con le manovre tutte da ricostruire. E da lì ho cominciato a ricostruire prima la poppa, poi gli alberi, con i relativi pennoni, il buon presso, che è l'albero orizzontale di prua, era in condizioni discrete. E poi ho ricostruito il salpa ancore a prua e le ancore le ho anche quelle lì ristrutturate e verniciate, che anche quelle lì erano state tenute per fusione, quindi un lavoro proprio artigianale. Il veliero è adesso dentro una bacheca per proteggerlo dalla polvere che, ci spiega Ricciardi, è uno dei nemici più temibili per questo tipo di manufatti. Le ore non le ho contate, però diciamo che l'ho tenuto a casa più di tre anni quasi. E il periodo del lockdown totale è stato il periodo, diciamo, dove il lavoro ha reso di più, perché chiaramente il tempo c'era e appunto ho concluso il lavoro, soprattutto il grosso lavoro, chiaramente quello delle manovre, aver ricostruito tutte le manovre. E poi anche la verniciatura, che naturalmente l'ho fatta con la gomma lacca, che si ricava da delle resine naturali, per proteggere lo scafo e per lasciarlo comunque come era, era visibile così come adesso.